Nel piccolo paese dell'Agrigentino è arrivata la protezione civile per verificare danni provocati dalle forti piogge della scorsa notte. Cornicioni crollati, tombini scoperchiati, attività lavorative e negozi in fase dall'acqua. Allagata la chiesa di San Giuseppe, frane e smottamenti sono stati segnalati un po' ovunque con il cedimento di alcune strade e il clollo di muri e casolari diroccati. La massa di acqua, detriti e fanco ha trascinato via una decina di animali tra mucche e cavalli che sono morti sepolti. Avete avuto danni? Come vede tantissimi, non è la prima volta purtroppo che capita questa cosa. Già un due o tre volte è capitato e ancora una volta sempre c'è un danno. Danni enormi, specialmente carte per stampanti, le macchinette da gioco che non sappiamo se funzionano ancora perché ancora non l'abbiamo attivato. Bicchieri, caffè, sigarette, un bel po' di danni. Il comune di Burge è pronto a chiedere lo stato di calamità naturale. Sono in movimento dalle 4 di stamattina, c'è stata questa pioggia assolutamente straordinaria che ha creato notevoli problemi a tutto il paese. Esercizi pubblici inondati di acqua, le nostre chiese, tutti i nostri beni culturali e cedimenti strutturali di strade, quindi stiamo facendo dei sopralloghi con la protezione civile per vedere un po' lo stato dell'arte e quindi eventualmente chiedere lo stato di calamità naturale alla regione. Da Burgia a Sciacca dove sono stati sospesi gli interventi chirurgici nell'ospedale Giovanni Paolo II, la pioggia della scorsa notte ha allagato i locali del complesso operatorio impedendo il regolare svolgimento delle attività. Al momento non si sa quanto la struttura potrà essere nuovamente disponibile.